Senza vergogna e senza un minimo di scrupolo, gli incivili continuano a conferire rifiuti di svariata natura nei luoghi più belli e incontaminati del nostro territorio, fregandosene anche delle più elementari regole del vivere civile. Le immagini ci mostrano una delle tante discariche a cielo aperto in Versilia, segnalataci da cittadini indignati che chiedono maggiori controlli e sanzioni severe a chi viene beccato in flagranza. E' di oggi la scoperta di un'altra discarica non autorizzata fatta dal gruppo versilese dell'Associazione Ambientarista Fareverde a 50 metri di distanza dal centro di stoccaggio Ersu a Pioppogatto nel comune di Massarosa. Queste le immagini realizzate dai volontari. La nascita di discariche abusive è sempre un danno gravissimo per il territorio, un pericolo ambientale e sanitario, afferma Anna Silvestro di Fareverde. Lungo la strada in via Pioppogatto che costeggia il Fosso in direzione Viereggio vi sono rifiuti di ogni genere, da lavatrici a frigoriferi, televisori ingombranti di ogni dimensione e grandi quantitativi di calcinacci abbandonati da novelli barbari che inquinano in modo preoccupante il territorio. Fareverde Versilia, vista la poca sensibilità delle forze dell'ordine verso questi episodi vergognosi e dannosi per l'intera collettività, ha presentato un nuovo esposto alle autorità competenti affinché intervengano e perseguono i colpevoli se ne riscontrano gli estremi di reato.